Fino a ieri ci si aspettava un capodanno in zona gialla come conseguenza del peggioramento dell'attuale curva pandemica come paventato dallo stesso presidente della regione Francesco Acquaroli. Governatore che invece questa mattina ha ricevuto la telefonata del ministro della salute Roberto Speranza che ha confermato e ufficializzato i rumors emersi nella tarda serata di ieri. Le marche passeranno da zona bianca a zona gialla già da lunedì 20 dicembre. E' quanto ratificato da una ordinanza ministeriale che declassa la regione assieme a Veneto, Liguria e provincia autonoma di Trento. Natale in giallo e cambio di colore in anticipo motivato dallo sforamento di tutti i parametri. Su tutti quello dell'occupazione dei posti letto in area medica che ora supera la soglia del 15%. Un dato che come ricordato anche da Acquaroli attraverso Facebook negli ultimi due giorni ha registrato un incremento superiore a quello di una settimana intera. Da lunedì quindi nelle marche scatterà la mascherina obbligatoria anche all'aperto. Non ci saranno però altre differenze sostanziali fra zona bianca e zona gialla. Differenze che sono decadute da quando dal 6 dicembre gran parte delle distinzioni sono diventate riconducibili fra l'avere il super green pass rispetto al green pass base. Mascherina a parte se siamo uniti di certificazione verde rafforzata non ci sono infatti differenze rispetto alla zona bianca per l'accesso alberghi, trasporti pubblici o ferroviarie così come non ci sono limiti a spostamenti di regione. I negozi restano aperti idem bar e ristoranti senza limiti orari. Allo stesso modo non cambia la fruizione di eventi sportivi, teatri, cinema o eventi culturali. Un passaggio da zona bianca a zona gialla che dunque non sconvolgerà certe abitudini o libertà ma che è una preoccupante cartina tornasole della facilità di contagio in un inverno che ha appena cominciato.